Io sono di natura ottimista e sono convinto che Cota ce la farà, grazie a tutti noi, al nostro passaparola, con la gente che conosciamo, perché credo noi abbiamo un ideale da difendere che altri non hanno, abbiamo una forza maggiore degli altri. Io ricordo sempre la mia prima riunione politica in cui sono andato, ero più o meno della loro età, con Barbatoni, la prima frase che fu detta questa sera era difendiamo la nostra terra e oggi, anni dopo, sono passati 25 anni, l'ho scritta lì sul camper, difendiamo la nostra terra, mandiamola giù gente che la pensa come noi, perché dobbiamo assolutamente cambiare le cose e questo modo di fare politica. Ci abbiamo creduto da sempre e oggi più che mai si vede che c'è un entusiasmo nuovo, per cui tutte le volte che vedo tanta gente davanti a noi, con noi, ieri sera fossano, oggi qua, gli altri non sono in grado di organizzare queste cose qua. Abbiamo un nostro ideale che sta in quel simbolo laggiù della Lega Nord e per quel motivo che non abbiamo mai puntato sulle persone. È l'ideale che conta, le persone passano, servono l'ideale. Questo dobbiamo continuare ad avere nella nostra testa, nessuna guerra dobbiamo fare tra di noi. Siamo in questo caso in provincia di Cuneo, sei amici, ci siamo presentati per questo movimento e faremo fino in fondo il nostro dovere, così come tutti noi lo facciamo, parlando con gli altri, con i nostri amici, con i conoscenti, perché in questa maniera passa l'idea, in questa maniera vinceremo. E quando Cota mi ha detto, Dio raggiù a Roma, ma la cosa migliore, la cosa più bella che può avere un piemontese è quella di governare la sua regione. E questa è stata una frase che mi ha colpito, perché noi partiamo, apparentemente qualcuno mi diceva ancora stamattina, ma come mai Cota fa quasi un passo indietro, capogruppo alla Cama, come mai Zaia fa quasi un passo indietro, dal ministro dell'agricoltura al governatore del Veneto. Questa è la nostra forza, partiamo dal nostro territorio e dalla nostra gente per portare avanti le cose che la gente sul territorio vuole, no? Questo dobbiamo dimostrare domani, quando sono convinto saremo laggiù ad amministrare la regione. Dovremmo dimostrare, e sono convinto quello che dimostreremo, come già lo stiamo facendo, che al di là delle parole ci sono i fatti, e nei fatti si misura la fiducia della gente. Se sapremo come vogliamo fare, dimostrare che siamo in grado di far diventare concreta questa speranza, se saremo in grado di fare questo avremo un consenso fortissimo. Io dico sempre, in una zona come la nostra terra, oggi abbiamo il 25%, ma dobbiamo superare il 50%, perché è l'unico movimento che parte dalle nostre case e guarda in avanti. È una nuova maniera di fare politica, a mio avviso, lo è sempre stata, abbiamo fatto anche degli errori, io credo che oggi però siamo, grazie anche alle esperienze che abbiamo maturato, sulla strada giusta per ottenere questi risultati. Quindi, forza, grazie.